ragazze vi farò vedere come si fa da una caramella guinosa piccola a una caramella guinosa grande allora vi dico come si fa ma non vi faccio mostrare come ma vi dico no se ne era una ciotolina, cucchiaio, una ciotolina, un bicchietto da una piccola diventerà così, quando vede la carta a tutto tempo ad esempio lo fate di notte che è meglio poi di mattina lo vedete ma col cucchiaio è andato a prenderlo, va bene, eccolo qua anche bu, la puntata, che si gusta ogni tra? non cadono pezzi a questo, va bene, ciao